Perché studiare l'ingegneria informatica? Allora, ovviamente dipende molto anche dalla passione personale. Vorrei solo fare così un piccolo accenno all'importanza che ha l'informatica. Ora, noi viviamo nella società dell'informazione. Le società più capitalizzate, nelle borse, non producono merci, ma manipolano le informazioni. Informazioni per far che? Produrre beni, servizi, intrattenimento, formazione, medicina. Quindi, di fatto, l'informatica è l'elemento chiave per la maggior parte dell'attività umane. Penso che viate sempre parlare del concetto in base al quale il nuovo petrolio sarebbero in realtà i dati. Dai dati si possono estrarre una quantità di benefici economici enormi. E per questo, diciamo, c'è in corso una competizione enorme a livello planetario per gestire questi dati. Perché? Perché si è imparato che dalle grandi quantità di dati si possono, con le nuove tecnologie, apprendere un sacco di cose. Questo è il motivo per cui l'economia globale si è spostata verso la manipolazione di informazione, anche nelle fabbriche. Quindi, anche dove si producono delle cose che si toccano, il ferro, il legno, la plastica e così via, anche lì l'importanza e il ruolo dell'informatica è fondamentale. Avete senz'altro sentito parlare di Industria 4.0, se ne parlava tantissimo prima del Covid, se ne parla tuttora, ed è di fatto, cosa vuol dire Industria 4.0? Cosa vuol dire 4? 4 sta per quarta rivoluzione industriale. E le altre quali sono? Beh, alcune le avete imparate a scuola. La prima risale al 1780, è avvenuta in Inghilterra con l'invenzione, diciamo, sono successe tante cose, però diciamo, l'evento, come dire, simbolo è l'introduzione del telaio vapore, che ha improdotto un primo processo di meccanizzazione. La seconda rivoluzione industriale è della fine dell'Ottocento e riguarda la possibilità di utilizzare l'energia elettrica. La prima rivoluzione industriale è essenzialmente basata sul carbone e sul vapore, la seconda sull'utilizzo e distribuzione dell'energia elettrica. La terza rivoluzione industriale, anni 70, è legata all'introduzione delle tecniche di automazione e robotica, catene di montaggio e così via, Ford di fatto è chi ha inventato la catena di montaggio, e la quarta, quella che stiamo vivendo adesso, è quella legata all'utilizzo di internet. L'internet è entrato nelle fabbriche e ha rivoluzionato completamente il modo di produrre. Produrre anche, ripeto, non soltanto informazioni, ma produrre beni, cose che si toccano. Per cui, diciamo, il ruolo dell'informatica è diventato fondamentale anche nelle aziende che producono beni tangibili. Qui, l'informatica è ovunque, è per esempio nei servizi di medicina, li vedete un robot chirurgo, si stanno diffondendo sempre di più, ovviamente i robot chirurghi devono essere operati da un chirurgo, ma hanno una quantità di informatica, di software enorme dietro, sistemi di diagnostica basati sull'informatica, l'informatica è, per esempio, nella musica, il corso di laurea in musica e acustica e engineering è un esempio, la gestione delle informazioni comporta anche rischi che sono legati alla sicurezza informatica, è partito da poco un corso di laurea magistrale del Politecnico in collaborazione con la Bocconi, proprio sulla cyber security, sulla sicurezza informatica, perché ovviamente i dati possono anche essere usati contro noi stessi, nella finanza, economia e finanza, l'informatica è presente già da tempo, è presente nei viaggi, chi di noi ormai va più in agenzia a prenotare i viaggi, si fa tutto su internet, ci sono vari modi in cui uno può prenotare il proprio viaggio, la propria destinazione direttamente dal telefonino. la distribuzione, la distribuzione sia alimentare, sia dei beni di consumo, sia la distribuzione elettrica, l'informazione in generale, l'elettronica, non dimentichiamoci che anche nella progettazione dell'elettronica si utilizza in larga misura componenti informatici, ormai non si fa più il circuitino a mano, e infine l'energia, la gestione dell'energia, ovviamente l'informazione per definizione non è una forma di energia, non trasporta energia, ma per gestire l'energia, per esempio per gestirla in modo sempre più intelligente, connettendo varie fonti di energia solare, piuttosto che eolico, piuttosto che termico, è necessaria un'enorme intelligenza, quindi un'enorme capacità di lavorazione dei dati. E non da ultimo l'intrattenimento, che in realtà è una larga, larga fetta del mercato dell'informatica. Infine gli elettrodomestici, forse sono la parte più trascurata, ma in realtà anche una semplice lavatrice ha a bordo qualche microprocessore che appunto sovrintende i programmi di lavaggio. Cosa c'entra il Politecnico Milano con l'informatica? Che ruolo ha il Politecnico Milano nell'informatica? Allora, queste sono le classifiche che sono state illustrate prima da professore Gastaldi, le illustrerò brevemente. Quella che diciamo ci piace di più, piace al professor Gastaldi, ma piace anche a me, è quella della QS, che appunto prende in esame tante cose, non soltanto il prestigio dei docenti, che per carità è un elemento di giudizio importantissimo, ma appunto prende in esame il gradimento delle aziende che assumono i nostri laureati, la capacità di trovare lavoro e tutta una serie di indicatori omnicomprensiva. Secondo questa classifica, come abbiamo già detto prima, per quanto riguarda la categoria ingegneria e materie tecnologiche, il Politecnico è tredicesimo al mondo, se guardiamo la classifica università, come detto prima, sempre 142, ora questi numeri vanno presi con intelligenza, il Politecnico è un'università tecnica, quindi laurea ingegneri, architetti e designer e quindi deve confrontarsi con altre università tecniche, per cui la categoria scienze e ingegneria, non abbiamo corsi di medicina, ancora, non abbiamo corsi di scienze politiche, di lettere, perché non siamo un'università generalista, dobbiamo confrontare sostanzialmente un centometrista come un maratoneta, nell'ambito della tecnologia siamo tredicesimi al mondo, siamo settimi in Europa, davanti a noi le tre inglesi, due svizzere e una olandese, siamo davanti ai tedeschi, che mi dà sempre una grossa soddisfazione, per carità sono bravissimi, però a meno in questo campo il Politecnico di Milano si sa far valere e siamo ovviamente primi in Italia. Allora, l'informatica di fatto è nata a Politecnico, in Italia, sto parlando in Italia, è nata a Politecnico di Milano, è nata quando nel 1951 il professor Dadda, che poi fu anche il rettore del Politecnico, trasportò, trasportò proprio materialmente, su nave, dagli Stati Uniti, il primo calcolatore programmabile. arrivò in Italia grazie agli investimenti del piano Marshall, che ha contribuito alla ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale, era una cifra spropositata per l'epoca, e addirittura non si sapeva bene come impiegarlo, in realtà non è vero, perché come arrivò a Milano, questo calcolatore fu subito utilizzato dalla Pirelli nella produzione degli pneumatici, comunque arrivò nel 1951, perché il professor Dadda aveva partecipato alla progettazione del calcolatore, negli studi della Rand Corporation di Los Angeles, e gli era stato concesso, appunto, grazie a Piano Mash, di portare un esemplare in Italia. Tra l'altro questo calcolatore, questo qui, è installato, installato, ovviamente non funziona più, trova posto nell'atrio del Dipartimento di Elettronica della Politecnica di Milano, quindi chi di voi farà la magistrale di Milano, avrà la possibilità di vederlo, è una specie di armadio due ante gigantesco, aveva 4.000 parole di memoria di 52 bit, una cosa infima rispetto al telefonino che avete in tasca, però, ripeto, era l'inizio dell'era informatica in Italia. Tra l'altro il professor Dadda ha ricevuto un premio nell'ambito dell'informatica, che è questo strano oggetto, qui fatto tutto di quadrati e di linee, ed è il famoso moltiplicatore di Dadda, è un circuito logico per il quale il professor Dadda ha conseguito un premio. Piccolo aneddoto, abbiamo tempo, come vi dicevo prima, il primo calcolatore fu trasportato in Italia dal professor Dadda per nave, quando arrivò alla Dogana di Genova, dopo un viaggio di un mese circa, da Los Angeles, immaginate arrivare alla Dogana, alla Dogana di Genova gli fu chiesto cosa fosse, perché bisognava pagare il dazio, e siccome nessuno sapeva cosa fosse, ed era fatto da molte valvole, non c'erano i transistori ancora, c'erano le valvole, ovviamente nessuno di voi ha mai visto una tv in bianco e nero, ma io me la ricordo, non aveva i transistori, aveva le valvole, che erano delle specie di lampadine, e siccome videro tutta questa massa di lampadine, pensarono fosse una radio, e la classificarono come radio, solo che ne aveva tantissime, e siccome al tempo bisognava applicare il bollino del dazio su ogni valvola per le radio importate, il professor Dada si impegnò a farlo su tutte le valvole del calcolatore, o non lo fece mai, ovviamente, passarono per buono, passò alla Dogana, e poi fu installato a Politecnico di Milano, e ripeto, potete vedere tuttora, nell'attrio del Dipartimento di Informatica, Elettronica e Informatica e Bioingegneria del Politecnico di Milano. Cosa si studia Ingegneria Informatica? Allora, innanzitutto, è un ingegnere, e quindi afferisce alla scuola di ingegneria, metto, scusate, metto, no, niente, afferisce alla scuola di ingegneria, le scuole di ingegneria sono tre, civile, ambientale e territoriale, industriale dell'informazione, edile architettura. L'ingegnere informatico è quindi un ingegnere che è specializzato sull'informatica piuttosto che sulla meccanica. Questo cosa comporta? Comporta che, oltre all'informatica vera e propria, l'ingegnere informatico studia materie di base dell'ingegneria, quindi matematica, economia, fisica, meccanica, elettrotecnica, elettronica, automatica, perché? Perché l'ingegnere informatico deve essere pronto a conoscere non solo quello che c'è dentro al calcolatore, ma anche quello che c'è fuori dal calcolatore. Chiaramente, prendiamo l'esempio di un sistema ABS per un'automobile, il sistema ABS, sapete, è un sistema di sicurezza per la, lo dico a grandi linee, per la frenata delle automobili, è di fatto software. Allora, l'ingegnere informatico non sarà un progettista meccanico, ma tutto sommato deve capire come funziona a grandissimi linee un'automobile per poterne progettare il software. E questo è quello che distingue l'ingegnere informatico dall'aureato in scienza dell'informazione. L'ingegnere informatico, come dicevo, conosce quello che c'è dentro al calcolatore, ma anche quello che c'è fuori. Ho fatto l'esempio dell'automobile, potrei fare l'esempio della lavatrice, potrei fare l'esempio del sistema di riproduzione, sonoro e così via. Quindi, l'ingegnere è appunto un ingegnere che ha una preparazione di base nelle materie di ingegneria. Ovviamente, accanto alle materie di base dell'ingegneria, ci sono le materie specifiche dell'ingegnere informatico, che sono ingegnerie del software, base di dati, programmazione, sistemi hardware e software, principi di telecomunicazione. Oltre a tutto ciò, ci sono materie specialistiche che ne connotano l'indirizzo finale, che possono essere applicazioni mobile, videogame, abbiamo visto il design, l'intelligenza artificiale, la robotica, l'intelligenza artificiale vera e propria, il deep learning, cosiddetto, e così via. Ecco, struttura del corso degli studi. Come detto prima, il corso degli studi è organizzato in un corso di laurea triennale, un corso di laurea magistrale e per chi volesse la possibilità di proseguire nel dottorato. Ovviamente, a voi interessa essenzialmente il corso di laurea triennale, per cui vi parlerò essenzialmente di quello. Quindi, primo, secondo e terzo anno. Ops, no, giusto. Ecco, allora, poi vi parlerò in dettaglio delle materie triennali. Tra parentesi, il corso di laurea triennale in informatica è uguale ovunque, sia a Milano, ovunque. Ormai, una volta che raccomo, adesso non c'è più, a Milano e a Cremona sono uguali. Cambia un po' la scelta degli esami facoltativi, ma il percorso è identico, sia a Milano che a Cremona. Per chi di voi poi sarà interessato alla laurea magistrale, la laurea magistrale si chiama Computer Science and Engineering, come detto prima, tutte le lauree triennali, scusate, le lauree magistrali a Politecnico sono tutte in inglese, e essenzialmente si compone di tre piani di studio. Uno è, diciamo, un'informatica per il business e qui ci sono molte commissioni con l'ingegneria gestionale, è un'intersezione tra l'ingegneria informatica e l'ingegneria gestionale. Primo anno della magistrale a Leonardo, Campus Leonardo, sede storica, secondo anno Campus Bovisa. Poi abbiamo possibilità di piani di studio molto vari, nel senso che non sono piani di studio obbligatori, ma sono consigliati a chi volesse dare una coloritura particolare al proprio indirizzo. E come dicevo prima, siccome l'informatica è praticamente ovunque, sono molti gli indirizzi che si possono seguire. Analisi dei dati, quindi big data, bioinformatica, ancora informatica gestionale, cyber security, applicazioni interattive, internet e web, robotica e visione e ingegneria del software per i puristi della programmazione che appunto studiano la produzione stessa del codice. E, scusate, e una terza possibilità che è il corso nuovo di Artificial Intelligence e Machine Learning. questo invece è molto specifico sull'intelligenza artificiale. Tutti i corsi, come detto prima, sono legati in inglese e hanno la possibilità di costruire anche percorsi di studio personalizzati. Come si diceva prima, la possibilità di scelte è molto ampia. Ecco, non l'ho detto perché a Cremona non è attivato, ma è possibile già dalla laurea triennale, scegliendo opportunamente gli esami del terzo anno specializzarsi nell'indirizzo telecommunication che non dà un accesso perché si può accedere anche dalla laurea informatica normale, ma è prevista anche una laurea magistrale, solo magistrale in telecommunication e engineering che ovviamente si focalizza sull'aspetto delle comunicazioni, quindi non tanto il software o il programma, ma la trasmissione dei dati. E qui ci sono vari indirizzi anche qui che sono la comunicazione dei dati, le reti, analisi dei segnali, microonde, fotonica, questa è un pochino più spostata verso l'elettronica e l'ingegneria dell'internet. Ecco, laurea triennale a Cremona, come dicevo prima, analogo, ho dato prima identica, sì, qui analoga e identica, ma di fatto sono molto molto simili alla laurea a Ferta Milano, ma ha il vantaggio di avere classi di dimensione un pochino più ridotta, 50-60 rispetto ai 160 in media di Milano per classe, è una didattica un pochino più agevolata legata appunto al fatto che le classi sono di numero più ridotte. Il test online di cui parleremo più avanti è identico, quello di Milano, questo è proprio identico, ma dà la possibilità di accesso a due gradatori diverse. Allora, passo indietro, come vedremo prima chi fa il test online al quarto anno ha diritto di immatricolarsi dove vuole, Milano, Cremona, informatica, meccanica, non è importanza, chi lo facesse al quinto anno deve entrare in una graduatoria perché va eventualmente a occupare i posti lasciati liberi da quelli che si sono immatricolati prima. Ecco, ci sono due gradatori separate per Milano e per Cremona, mentre a Milano è abbastanza difficile entrare in graduatoria, qui a Cremona almeno fino adesso è un pochino più facile anche se ultimamente il numero di immatricolati è salito per cui anche qui a Cremona la graduatoria comincia a farsi un pochino più corta. e poi c'è l'altra possibilità di seguire la laurea magistrale in music acustica e engineering che è offerta in parte a Milano e in parte a Cremona. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono due indirizzi, uno è l'elaborazione del suono e si continua a Milano, l'altro invece è proprio ingegneria acustica ed è erogato tutto qui a Cremona e tra l'altro sfrutto i laboratori di ricerca del Museo del Violino. Ultimamente si sono aggiunte altre lauree magistrali oltre a quella che vi ho illustrato prima che è la cosiddetta laurea di continuità. Cosa vuol dire laurea di continuità? Vuol dire una laurea che prosegue il percorso triennale ha lo stesso nome meccanica, meccanica, gestionale, gestionale. Ecco, oltre a queste lauree cosiddette di continuità ci sono lauree non di continuità che di fatto sono un pochino più aperte all'interdisciplinarietà non solo ma anche la collaborazione con università diverse. Per esempio music acustica e engineering è tutta politecnica ma non è di continuità perché c'è solo la magistrale. Poi c'è la laurea in geoinformatica che è erogata a Milano e che ha a che fare con il trattamento dei dati geografici. Un nuovo corso appena appena nato che è l'high performance computing questo è in collaborazione soprattutto con il dipartimento di matematica anche questo è tutto politecnico un corso di cyber risk strategy di cui vi ho già parlato prima fatto in collaborazione con l'università Bocconi sui sistemi di sicurezza informatica e un altro corso in collaborazione stavolta con l'università di Milano sempre laurea magistrale in bioinformatica e genomica computazionale anche la manipolazione del DNA è in larga misura un processo software nei primi tempi del covid quando fu disponibile per esempio il vaccino per esempio ho trovato vuol dire molto interessante il fatto che il vaccino fosse stato programmato da un software nel senso che la sequenza è stata è solo una parte poi della produzione effettiva del vaccino ma il vaccino fu proprio progettato con un algoritmo software che doveva replicare la catena degli aminoacidi lungo la proteina studiare all'estero ne abbiamo già parlato prima c'è possibilità di studiare all'estero o tramite il programma Erasmus o addirittura partecipare al campus italo cinese con un anno a Shanghai oppure con un altro percorso di doppia laurea per esempio nel campo dell'informatica è attivo un corso di doppia laurea con università americane per esempio l'università di Chicago l'università di Linoise a Chicago che è un'ottima università molto prestigiosa ed è un'università pubblica sapete che le università americane sono tutte private e questo comporta il fatto che si pagano delle rette spaventose un anno un anno diretta ad Harvard costa 30.000 dollari e questo è il motivo per cui appunto è difficile per uno studente europeo andare entrare in un'università americana ecco l'università di Linoise a Chicago è pubblica quindi ha delle tasse ovviamente molto molto più ridotte è un'ottima università e consente i percorsi doppia laurea questo vi dà anche un'idea della lotta impari che dobbiamo sostenere scalando le graduatorie con l'università americana è chiaro che Harvard è davanti a noi nella classifica anche dell'ingegneria non di molto ma è davanti a noi però può contare innanzitutto su dei finanziamenti da parte finanziamenti pubblici di ricerca enormi e soprattutto sul fatto che gli studenti pagano 30.000 dollari all'anno qui la massima contribuzione prevista a Politecnico sono 3.000 cioè un fattore 10 di differenza il 72% dei laureati triennali ovviamente continuano gli studi a Politecnico il 28% continua ogni studi in un'altra università oppure per un 76% entra nel mondo del lavoro e anche qui non vi risparmierò i dati legati all'occupazione e ai salari allora questo generalmente su tutti gli laureati del Politecnico il tasso di occupazione a un anno è quasi il 90% praticamente identico al tasso di occupazione dopo 6 mesi gli ingegneri in particolare un terzo sono già impiegati a tempo indeterminato il giorno della laurea quindi un terzo stanno già lavorando quando si laureano il salario il salario netto complessivo è 1400 euro quasi 1500 euro che però per quanto riguarda i laureati magistrali diventa il tasso di occupazione è 98% praticamente la piena occupazione e il primo stipendio è 1800 euro non è un granché rispetto alla fatica che ho fatto allora due cose primo è vero nel senso che per esempio all'estero i laureati sono pagati molto di più però c'è da dire che la progressione di carriera è piuttosto rapida in Italia nel senso che questi 1800 euro dopo due o tre anni superano già i 2200 2300 euro quindi il primo impiego sono d'accordo con voi è un buon stipendio ho detto oggettivamente è un buon stipendio però non è elevatissimo però la progressione di carriera è molto rapida vabbè qui vediamo altri tipi di dati di occupazione per esempio gli informatici cosa fanno per un 25% sono impiegati in professioni che hanno a che fare con internet per un 12% fanno consulenza 10% automazione consulenza aziendale 10% e poi via via si va a scendere ecco vi faccio notare che questi sono gli annunci raccolti dal career service in un anno sono 5973 i laureati complessivi sono 320 quindi già questo vi dà un'idea della richiesta di laureati in ingegneria informatica e tra l'altro va sottolineato che questo non è l'unico canale in base a cui le aziende cercano laureati perché oltre al career service ci sono gli annunci ci sono i contatti personali per cui quei 5973 sono una piccola parte delle richieste che le aziende fanno di ingegneri informatici e ripeto già su questa piccola parte i laureati di esposizione sono 320 quindi questo vi dà un'idea di quanto i laureati di ingegneria informatica siano richiesti ecco questi sono i laureati con l'indirizzo telecomunicazione anche questi richiestissimi i tassi di occupazione sono gli stessi il 98% è la piena occupazione non è che quel 2% fa un gran che perché c'è sempre chi apre il ciringhito sulla spiaggia chi sposa l'ereditiera per cui 98% di fatto è la piena occupazione qui lo stipendio mensile è un pochino più elevato e sfiora i 2000 euro al mese netti anche qui la sproporzione tra le richieste che sono 1763 e il numero di laureati è enorme 90 laureati per il numero di richieste allora perché scegliere ingegneria informatica un punto di vista personale l'artigiano o chi fa crea prodotti tangibili deve farlo insieme a tanti altri non è possibile costruire una macchina da soli cioè c'è bisogno di tante persone catene di montaggio e così via il diciamo chi lavora nell'informatica può avere la soddisfazione di creare qualcosa proprio da solo ma non qualcosa di artigianale è qualcosa di questo tipo per esempio facebook facebook è stato creato da una persona qualche numero nell'estate del 2004 facebook ha ricevuto un finanziamento di 500 mila dollari che non è un granché 500 mila dollari nel 2012 facebook viene quotato in borsa e la sua capitalizzazione è 500 miliardi di dollari e questo grazie a una persona sola quindi immaginate che potere ovviamente Zuckerberg è Zuckerberg non so neanche si nasce tanti Zuckerberg però questo vi da un'idea della potenziale di sviluppo che hanno le professioni informatiche altri esempi whatsapp è stata fondata da due dipendenti di IAU nel 2009 e 4 anni dopo è stata acquistata da facebook per 19 miliardi di dollari 19 miliardi di dollari e aveva 55 dipendenti al momento dell'acquisto provate un po' pensare a un fatturato simile o una capitalazione simile per esempio di un'azienda automobilistica che siamo più o meno lì quanti dipendenti ha un'azienda automobilistica ecco questa che veniva capitalizzata con 19 miliardi di dollari aveva 55 dipendenti vabbè questi sono esempi un pochino più ludici fortnite per esempio ha incassato un milione di dollari in 72 ore con acquisti legati all'app stessa allora io avrei finito ci sono domande ma preferisco lasciare la parola a Emma che vi racconterà la sua personal esperienza quando avrà finito magari rientro io per rispondere ad altri tipi di domande prova prova si sente? ok allora ciao a tutti mi chiamo Emma Fanfoni e appunto come diceva prima il professor Ferretti sono al terzo anno di ingegnere informatica qui al Politecnico allora vi do un paio di informazioni su di me ma giusto per contestualizzare allora io ho fatto il liceo scientifico Laselli tra l'altro e che vedo qualcuno ha la felpa quindi immagino che siete Laselli e ho fatto il liceo scientifico tradizionale quindi latino niente informatica e qui arrivo al primo punto del mio discorso ovvero che non serve non è necessario avere delle conoscenze di informatica prima di affrontare questo percorso perché tutto viene ricominciato dall'inizio quindi non preoccupatevi non dovete spaventarvi si può imparare tutto sia qui apposta per imparare io non avevo mai scritto una linea di codice prima di iniziare l'università quindi non preoccupatevi qui appunto si studiano delle materie che sono appunto comuni a tutti i rami dell'ingegneria analisi fisica e chi più ne ha più ne metta e materie che invece caratterizzano proprio l'indirizzo ci sono dei corsi di programmazione corsi in cui si studiano gli algoritmi il funzionamento della rete internet e così via quindi alla fine dei tre anni posso dirvelo perché ormai io ci sono avrete una conoscenza riguardo molti aspetti dell'informatica e delle basi molto solide sicuramente però finiti i tre anni vi renderete conto che non saprete tutto e qui arriva il secondo punto del mio discorso secondo me una delle cose che più vi lascia questo percorso di studi è l'attitudine a imparare in un settore come l'informatica dove veramente ci sono vengono inventate nuove tecnologie all'ordine del giorno le cose che si utilizzavano fino a un attimo prima diventano obsolete e quindi non si usano più capiterà molto spesso di trovarvi di fronte a dei problemi che magari sembrano insormontabili non avrete idea di dove iniziare però appunto se avete delle basi solide come quelle che vi da questa scuola imparerete a capire come risolvere i problemi e vi faccio un esempio che preso dalla mia esperienza io due anni fa ho fatto uno stage ma secondo me non funziona vabbè ho fatto uno stage presso un'azienda di Cremona e dovevo utilizzare un linguaggio che io non conoscevo perché non era previsto che lo imparassi durante gli anni dell'università l'ho imparato e sono riuscita alla fine a fare quello che mi veniva richiesto quindi appunto secondo me è questo l'ascito più grande che vi da quest'università appunto la forma mentis che vi permette di imparare le cose e di non spaventarvi di fronte ai problemi poi ovviamente imparate anche veramente un sacco di cose ci sono tanti corsi alcuni vi piaceranno molto altri un po' meno normalmente come accade sempre però nel complesso io sono molto soddisfatta del percorso che sto facendo e che penso continuerò anche con la laurea magistrale avete qualche domanda non lo so sì allora a me piacciono molto i dati quindi penso che farò la magistrale quella in ingegneria informatica che è suddivisa in dieci indirizzi ma diciamo che è una suddivisione informale perché all'interno di quella laurea tu puoi scegliere tutti i corsi che vuoi ci sono dei corsi fissi e poi puoi scegliere dei corsi ci sono dei corsi liberi però per evitare che uno studente non peschi corsi da ambiti completamente diversi ci sono appunto questa suddivisione penso che farò o quella in big data oppure quella in bioinformatics and e health si chiama che riguarda l'aspetto legato all'industria medica nell'utilizzo dei dati e così via sì come erano strutturate le lezioni allora le lezioni allora la maggior parte delle lezioni nella maggior parte delle lezioni si ha il docente che fa lezioni un po' come alle superiori ci sono delle lezioni un pochino più interattive ad esempio io tra 20 minuti devo andare di sopra a fare un quiz perché in questo corso la docente ha deciso che si dà la possibilità di fare dei quiz settimanalmente per permettere di avere dei voti in più sto sforando il tempo ok per permettere di avere dei voti in più all'esame non è sempre così dipende dal secondo corso in cui questo accade poi secondo me uno dei grandi vantaggi della sede di Cremona è il fatto che siamo veramente pochi in aula io non ho mai visto più di 40 persone e di solito siamo una ventina quindi il docente ha proprio la possibilità di rispondere a tutte le domande che vengono fatte in aula cosa che invece almeno non ci sono mai stata ma non penso possa accadere a Milano dove magari c'è qualche centinaio di persone presente quindi sarebbe materialmente impossibile rispondere invece qui a Cremona è tutto diverso a volte i docenti sanno anche proprio chi sei senza che tu ti sia mai presentato succede spesso quindi si è un rapporto molto più simile a quello che si ha alle superiori qualche altra domanda no posso così ok grazie Emma per la sua testimonianza è una liberale grazie a tutti